Ciao amici, benvenuti a Mamma di Londra e benvenuti in un altro attesissimo episodio di Sulle Orme di Oggi sono qua a parlarvi di un personaggio nato a Londra ma che ha guidato il famoso spazio in America Di chi sto parlando? bravissimi a tutti voi che l'avete indovinato anche se vabbè già dal titolo avete capito di chi sto parlando non posso far altro che parlare di Alfred Hitchcock, il grandissimo regista nato a Londra il 13 agosto nel 1899 quindi è un leoncino come me, si è morto nel settembre del 1980 parliamo un po' della sua vita, Alfred è diventato il grande regista che tutti noi conosciamo ha avuto una infanzia un po' complicata questo perché era in sovrappeso quindi lui ha sempre avuto il seribresso e anche il rapporto che aveva con i genitori pensate che il padre quando lui aveva 5 anni per punirlo l'aveva fatto rinchiudere dalla polizia l'aveva fatto proprio incarcerare, ebbene sì invece la mamma era solita punirlo con magari ore e ore che doveva stare in piedi, diciamo che poi crescendo è entrato nel settore della pubblicità e scriveva per attestate giornalistiche ma molto presto ha sviluppato questa passione cinematografica e nel 1925 ha fatto il suo primo film nel 1940 invece si è trasferito in America questo per scampare alla seconda guerra mondiale allora Alfred fin da piccolo andava a teatro e da lì anche si è sviluppato ancora di più questa sua passione per il cinema e per il suspense Alfred è considerato uno dei più grandi registi di tutta la storia è stato uno dei più grandi influenziatori nella sua epoca ma anche i giorni nostri ha creato molte tecniche di ripresa tuttora oggi utilizzate una di queste è vertigo che appunto trae il nome del film stesso la tecnica consiste nel mandare la telecamera in avanti ma zoomata all'interno questo fa si che si crea questo effetto di vertigine una persona molto fondamentale nella vita è stata sua moglie Alma infatti lei aveva ruolo fondamentale anche nella scelta del film è stata lei a consigliare allo stesso Alfred di mettere le musiche suspense nei suoi film infatti ancora oggi tutti noi possiamo ricordarci delle musiche suspense ok adesso vi voglio parlare di alcune curiosità che forse non tutti sapete su di lui la sua paura è più grande sono le uova ebbene sì lui faceva ha sempre fatto film di suspense, thriller eppure le uova era una sua fobia altra cosa lui dice che non riuscite mai a guardare i suoi film perché gli faceva una paura questo non sappiamo se sia una cosa dovuta a una strategia di marketing o se fosse una sua realtà altra cosa nel 50% dei film che ha fatto vedete sempre un pezzo in cui si vedevano presso altre questo perché appariva nei trailer e quindi dava già una garanzia di quello che sarebbe stato il film un'altra curiosità è quella che gli avevano offerto il titolo di comandante d'Inghilterra ma lui l'aveva rifiutato questo perché lui diceva questo titolo è alla mia altezza è stato nel momento in cui più avanti la regina stessa gli aveva dato il titolo di cavaliere che ha deciso di accertare infatti ancora oggi si dice Sir Arthur Hitchcock noi adesso ci troviamo nella sua casa a Earl's Court e infatti nella placca troverete il titolo nobiliare di Sir vi lascio ora alle riprese della casa di Hitchcock il titolo di Hitchcock Ed eccoci qua ragazzi, ci troviamo nella casa natale di Alfred a Leighton, ovvero a nord-ovest di Londra. Alle mie spalle potete vederla, è molto particolare, in suo onore hanno deciso di pitturare la casa dall'esterno con i corvi, questo per riprendere il famosissimo film The Birds. Cosa si può dire? C'è la placca comemorativa, inoltre hanno messo nella pavimentazione gli stessi uccelli. In parte alla casa oggi troviamo un posto di benzina, che però ai tempi era poco in cui si trovava il negozio di famiglia che vendevano frutta e verdura. Ed eccoci qua ragazzi, siamo all'Angelstone Station. e perché la decisione di questa tattua? Oltre al fatto che ci troviamo nella città natale, qua si possono trovare 16 mosaici che rappresentano gli eventi più importanti e i film che hanno fatto successo nella storia di Hitchcock. via. P. Ciò? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.